Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Alberto Matano è tornato alla guida della vita in diretta su Rai 1 dopo la consueta pausa estiva, raccogliendo un notevole successo di ascolti. La nuova stagione del celebre programma ha infatti confermato il suo primato tra i più seguiti dal pubblico italiano, raggiungendo uno share del 21,4% e una media di 1.760.000 telespettatori. Nei momenti più coinvolgenti della puntata, l'audience ha persino toccato picchi del 24% di share, superando il debutto della stagione precedente. Negli ultimi giorni, però, alcuni fan hanno notato una certa espressione distante e riflessiva sul volto di Matano. In risposta, il conduttore ha spiegato in diretta di essere semplicemente influenzato fin dall'inizio della trasmissione, rassicurando così i telespettatori che il suo aspetto lievemente affaticato era dovuto a un leggero malessere e non a motivi di preoccupazione. Il programma può quindi proseguire senza problemi. Cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti. E ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le ultime novità.